Un vasto anticiclone si va estendendo sull'Europa. Per sabato sulla nostra regione è previsto un bel tempo, con cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna per della locale nuvolosità pomeridiana. Le temperature minime saranno attorno ai 4 gradi, quindi farà piuttosto fresco il mattino nelle valli e in pianura. Le massime invece saranno un po' più umiti, quindi con loro i massimi attorno ai 20 gradi. Venti a regime di brezza lungo la costa, dove le temperature massime rimarranno un po' più basse. Per domenica ancora una giornata discreta, con cielo in prevalenza sereno su bassa pianura e costa, tra il poco nuvoloso e temporaneamente variabile invece sull'alta pianura e sulla fascia prealpina. Sulle Alpi invece ancora cielo sereno poco nuvoloso con un po' di nuvolosità pomeridiana appunto al confine con il Veneto. Temperature minime e massime in aumento di un paio di gradi rispetto a sabato. Sua costa venti a regime di brezza. Ancora lunedì è una giornata discreta, poi forse un peggioramento con delle piogge o dei rovesci sparsi nella giornata di martedì. Dall'Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Livio Stefanotto.